Lo avevo promesso, lo avevo annunciato, eccolo qui, il quinto contest del canale Morte Bianca è ufficialmente aperto. Per chi non lo sapesse, un contest è una gara in cui voi, gli iscritti, potete partecipare gratis per vincere un triplice premio dei due sponsor di questa gara. Per partecipare dovrete creare una storia horror e io giudicherò la storia più bella assegnando il premio al vincitore. Ora elenchiamo le regole della gara. Regola numero 1. Dovete caricare il video della storia horror su YouTube e accanto al titolo dovete scrivere hashtag contestmortebianca. Regola 2. La storia deve essere originale, quindi niente copi incollare da Creepypasta Wiki, SCP Foundation o no slip Reddit. Non sono ammessi sequel di altre storie o storie create per altri contest. Bisogna crearla da zero, come del resto faccio io con le mie storie. Numero 3. La storia deve essere filosofica. Voglio delle riflessioni vere. Voglio sentire il vostro cervello girare ai massimi livelli. Numero 4. Il contest inizia adesso e finisce, ve lo dico subito, il 24 dicembre 2021, alla mezzanotte, ossia alla mezzanotte di transizione tra il 24 e il 25, proprio perché spacca il Natale. Non sono ammessi ritardi né eccezioni. Numero 5. Siate civili. Niente odio, niente harassment verso il canale o altri partecipanti o terze parti. Già solo per la partecipazione voi otterrete la visibilità, perché sarete inseriti nella playlist contest in cui tutte le storie che hanno partecipato a tutti i contest del canale sono eternamente immagazzinate e otterrete critiche costruttive, elogi, consigli preziosi per ogni iscrittore. Il vincitore riceverà non uno, non due, ma ben tre premi. Il primo premio è una maglietta speciale, Limited Edition di Old T-Shirt, il negozio con cui vendiamo tutto il merchandising del canale. Magliette, cappelli, tazze, portachiavi e il kit di Morte Bianca. Questa maglietta è una nuova Limited Edition del Regno del Sud, ci sono solo 500 pezzi che voi potete comprare già adesso. E compresa con la maglietta, il vincitore otterrà anche il passaporto ufficiale del Regno del Sud. Un ringraziamento va soprattutto all'artista. E tra l'altro otterrà il primo passaporto del Regno del Sud e tutti gli altri passaporti sono tutti numerati. Ognuno di loro è unico. Old T-Shirt ha davvero fatto un lavorone stavolta. E quindi potrete veramente essere cittadini del Regno del Sud, comprandovi anche voi, se volete anche adesso, il vostro passaporto. Trovate tutto in descrizione. Il secondo premio viene da Poliniani, la casa editrice con cui ormai da anni abbiamo pubblicato i due libri e il fumetto. Il vincitore riceverà proprio questo, tutto quello che abbiamo prodotto con Poliniani. Il primo volume della trilogia Creepypasta, il secondo volume della trilogia Creepypasta e il fumetto Morte Bianca, con annessi i disegni di Maromind. Come vedete il buon corrado ci ha messo l'all in anche lui per sostenere questo contest. Il terzo premio è ovviamente il video di annuncio in cui pubblicamente io dirò il nickname e il titolo della storia con annessi i link e spiegherò nel dettaglio perché il video mi è piaciuto. E già adesso, come ho detto, voi potete comprare sul link che trovate sotto in descrizione di Poliniani, ho il link sia i due libri Creepypasta volume 1 e Creepypasta volume 2 con i disegni esclusivi di Maromind, nonché il fumetto Morte Bianca che ho fatto con Marco Albiero e potete anche ottenere le magliette non solo di Morte Bianca, non solo del Regno del Sud, ma potete anche ottenere le magliette del vostro personaggio preferito delle Creepypasta. Abbiamo l'uomo quantistico, il sinesteta, il blob, il virus informatico, l'uomo degli specchi, la maglietta con il logo del canale, il cappello nuovissimo con il logo del canale, il portachiavi o prendere direttamente il kit di Morte Bianca completo, tutto sul sito di Old T-Shirt, dove tra l'altro potete personalizzare le dimensioni, dove tra l'altro abbiamo deciso, visto l'enorme successo della scorsa Limited Edition, di farne altre 500 magliette per tutti quelli che non sono riusciti ad accapigliarsene la scorsa volta. Ricordate che Old T-Shirt è questo open space per tutti i creatori che vogliono creare i propri merchandising e avere una piattaforma dove farlo in modo facile. E ricordate che comprando questi prodotti non solo avrete qualcosa di bello per voi, ma supportando anche il canale stesso. Detto questo non posso che augurare buona fortuna ai partecipanti e buon divertimento a chi intende fare da spettatore e giudice. Mi raccomando, siate clementi! E se questo video ti è piaciuto ti invito a mettere mi piace e ad iscriverti al canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video!